Nell'avvertenza dell'azienda aquilana E-Tecca elettronica interviene anche il sindaco per Luigi Biondi che ha raccolto le sollecitazioni dei sindacati scrivendo alla regione in particolar modo agli assessori Quaresimale e Damario chiedendo loro di convocare un tavolo allargato con tutti gli interlocutori del territorio interessati alla space economy. Dopo lo sciopero e la riunione con la regione dei giorni scorsi l'azienda ha confermato licenziamenti e i sindacati hanno più volte invitato la politica locale ad intervenire. L'E-Tecca è la prima azienda in provincia che in tempi di covid avvia la procedura di licenziamento per 10 persone che rappresentano il 25 per cento della forza lavoro attualmente impiegata nella fabbrica che opera per il settore spaziale che al momento occupa circa 42 persone. La FIOMCGL ha criticato in questi giorni aspramente le istituzioni che per il sindacato non hanno avuto un atteggiamento lungimirante nel gestire queste emergenze. Vedi anche l'avvertenza Intex considerando che sul territorio ci sono aziende importanti come la Tales, Leonardo Telespazio che lavorano appunto nel settore spaziale e non bisogna dimenticare neppure che la regione Abruzzo ha investito ben 50 milioni di euro nel settore della spessa economy. Sto seguendo da molto tempo la questione i-tech, mi sono confrontato spesso con la proprietà, ho avuto anche un'interlocuzione appunto con queste grandi aziende che insistono su questo territorio e dobbiamo ragionare insieme a loro per capire come salvare questi posti di lavoro e anche come ampliare l'offerta nel settore dell'aerospazio per procurarne di nuovi. È un paradosso che una città come l'Aquila così pronta all'innovazione, così dinamica perda dei posti di lavoro sul settore che dovrebbe essere una delle sue una delle sue vocazioni. La verità è che la città in questo momento non può permettersi di perdere neanche un posto di lavoro anche perché i lavoratori possono usufruire di alcuni strumenti come più volte rilanciato dai sindacati e in questo tempo si potrebbe cercare una soluzione alla problematica. È paradossale infatti che un'azienda che ha sempre rappresentato un fiore all'occhiello in città e in un settore che va parli di crisi e avvide licenziamenti.